Ciao, io sono Beatrice. Ciao, io sono Alessandro, papà di Beatrice. E ho avuto l'opportunità di andare un anno con intercultura negli Stati Uniti a Isla Morada in Florida. Io credo che la fortuna che lei abbia avuto ad andare in un posto così bello sia unica, è un'esperienza che probabilmente sarà irripetibile. Non vedo l'ora di affrontare un attimo le difficoltà iniziali per poter crescere e anche maturare e penso che questa esperienza corti soprattutto a questo. Io sono sicuro che oltre che a crescere lei, a crescere noi come genitori.